del gruppo di giovani per la Proloquo, un gruppo che si è venuto a creare in questi mesi. La cosa molto bella è che è un gruppo molto diversificato, cioè prende ragazzi appena maggiorenni fino a quelli di 30 anni più o meno, perché l'idea è quella che una volta inseriti in una realtà come quella della Proloquo, che è comunque un'associazione piuttosto elastica, nel senso che ti permette di fare sia eventi culturali che eventi ludici, soprattutto per i ragazzi. Diciamo che è un'occasione secondo me ottima per dare la possibilità a loro di esprimere quello che vogliono. Quindi adesso si è già iniziato un dialogo con la Proloquo per iniziare e speriamo di magari riuscire a fare qualcosa direttamente con loro per settembre con le chiese, perché no? Comunque adesso dovrebbe iniziare. In metà giugno è partito il gruppo da Canterbury che attraversa la Francia, Lussemburgo, attualmente credo che siano in Lussemburgo. Per arrivare a Roma in fine agosto, prima di settembre, questo road to Rome che coinvolge ovviamente dei giovani perché è un percorso faticoso ed è un percorso che vuole essere, non dico assomigliare a quello di Santiago di Compostela, però l'intento è quello di arrivare a considerarlo un altro percorso alternativo importante. Ecco, su quello siccome il 14 arrivano a Fidenza, quelli che arrivano da nord e si sono già passati, tipo Fiacola Olimpica, il bordone del Pellegrino che sarà questo bastone che viene passato e arrivano il 14, il 15 partono per, vanno a Fornovo e poi partono e vanno per la Cisa, per cui stiamo coinvolgendo un gruppo di scout e di ragazzi del CAI che facciano lo stesso percorso da Parma, lungo la variante che abbiamo inaugurato, mentre gli altri partono da Fidenza e arriveranno poi a Fornovo insieme e quindi stiamo coinvolgendo anche lì, poi dopo faremo un appello, adesso appena si sa di preciso l'orario, il giorno e tutto, per coinvolgere anche dei giovani del nostro paese in questo percorso che ha, come abbiamo sempre detto, un significato spirituale, sportivo, eccetera e quindi anche quello è un modo per coinvolgere i giovani del nostro territorio.